Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il Napoli tramite una nota sul proprio sito ufficiale. Il presidente della società partenopea ha scoperto di aver contratto il nuovo coronavirus a seguito di un tampone effettuato ieri 9 settembre, lo stesso giorno in cui aveva partecipato all'assemblea di Lega Serie A, pur presentando dei sintomi. De Laurentiis aveva deciso di prendervi parte perché ancora è in attesa dell'esito del tampone. Visite, firma e poi l'annuncio. Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista tramite un comunicato in cui ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia. Il calciatore indosserà la maglia numero 8. Il giovane ex Rondinelle ha seglato un contratto di 5 anni con la società di via Aldorossi con stipendio crescente a partire da 2 milioni a stagione. Tonali arriva al Milan in prestito oneroso in cambio di 10 milioni più diritto di riscatto fissato a 15 milioni e altri 10 di bonus legati al raggiungimento di diversi obiettivi. Al Brescia inoltre andrà il 10% dell'eventuale futura rivendita. La Juventus sta affrettando i tempi per portare a Torino Luis Suarez con il rischio di non riuscire a chiudere la trattativa entro il 5 ottobre data della fine del calciomercato. Visti i tempi relativamente stretti, i bianconeri hanno già pronto un piano B. Alvaro Morata che tra il 2014 e il 2016 ha lasciato un buon ricordo alla continasta. Secondo marca l'Atletico Madrid avrebbe già ricevuto un'offerta di 50 milioni di euro che però è stata rifiutata. I colci nero si hanno pagato 55 milioni il calciatore per prenderlo dal Chelsea. Un'altra complicazione per il buon esito dell'affare potrebbe essere la clausola da 150 milioni che chiaramente la Juventus non intende pagare le operazioni, quindi si pronunciano ancora complicate. Sebastian Vettel è il nuovo pilota della Racing Point per il 2021 quando la scuderia prenderà il nome Aston Martin. È stato lo stesso team inglese ad annunciarlo attraverso il proprio sito ufficiale. La firma del tedesco arriva alla vigilia del Gran Premio di Toscana dove la Ferrari festeggerà i 1000 GP nel Circus. Vettel porta in dote alla scuderia britannica quattro titoli mondiali e una leadership assoluta. Il pilota ha subito espresso le sue sensazioni. Sono lieto di poter finalmente condividere questa notizia sul mio futuro. Sono estremamente orgoglioso di dire che diventerò un pilota Aston Martin nel 2021. Le parole di Vettel. È una nuova avventura per me con una casa automobilistica leggendaria. Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest'anno e credo che il futuro sarà ancora più luminoso. Ho ancora tanto amore per la Formula 1 e la mia unica motivazione è correre in testa al gruppo. Farlo con la Aston Martin sarà un enorme privilegio.